mister schiazza sesterese l'avventura continua con una vittoria esterna a rocambolesca tanti ribaltamenti anche di risultati si ci siamo complicati un po' la vita inizio e secondo tempo smettendo di giocare però abbiamo speso tanto nel primo tempo per cercare di fare la partita nonostante avessimo avuto dei risultati potevamo gestire tra virgolette dei risultati poi devo dire grazie a edo che no diciamo che con i cambi ci siamo un attimo di nuovo sistemati anche subito abbiamo perso caramello poi va già che aveva dovuto chiedere il cambio però chi entrato ha fatto il suo dai vabbè l'abbiamo promossa qualificati adesso vale tutto adesso il sogno continua dai come dicevamo la sala avanti un altro